Mancano ormai pochi giorni al nostro evento Italia 5 Stelle, sabato 24 e domenica 25 settembre a Palermo al Foro Italico. Tutto il Movimento 5 Stelle, gli eletti a tutti i livelli, insieme a voi, agli attivisti, agli iscritti ragioneremo sul governo 5 Stelle che presto riusciremo a conquistare. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle rifiuta il finanziamento pubblico ai partiti, per cui se potete, anche con una piccola donazione, aiutate a mantenere in vita il nostro sogno.